Preparati. Shinobi. Pensavo che non l'hai visto. Perfetto. Ancora lì. Chi non viderà del divino. Non dico che sinonza il filo o credito! Sì! Il potere del sangue dovrà. Allora ti ucciderò a tutte le volte che sarà necessario. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!